Dati anagrafici, consumi culturali e spesa turistica del fruitore di Passaggi Festival 2022. Sono queste le sezioni sulle quali si è concentrata l'indagine promossa da Passaggi Cultura e svolta da Domenico Alfano all'interno di un master dell'Università di Bologna in valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale. L'indagine è stata condotta somministrando un questionario cartaceo con 29 quesiti ad un campione eterogeneo di spettatori durante 18 presentazioni librarie. In totale sono state coinvolte 688 persone. Dai risultati illustrati questa mattina è emerso che l'utente medio della decima edizione dell'evento in due casi su cinque proviene da fuori città. Di questi, oltre il 28% è originario delle altre regioni d'Italia. La platea invece è stata costituita per il 60% da donne e per il 40% da uomini. Inoltre, la metà del pubblico che ha assistito agli incontri possiede una laurea e solo un fruitore su cinque ha partecipato ad altre iniziative culturali simili nell'ultimo anno. In tanti poi sono favorevoli all'acquisto di un biglietto d'ingresso. I dati dimostrano che chi si dichiara disponibile a pagarlo è mediamente un accanito lettore, mentre chi non è disponibile legge da uno a tre libri all'anno. Un'importante informazione che è emersa da questo sondaggio è che oltre una persona su due sarebbe disposta a corrispondere a una cifra per poter assistere agli incontri del festival, diciamo circa il 55%. Questo ha denotato una certa partecipazione della platea che si sente talmente coinvolta che probabilmente sarebbe anche disposta a pagare. I libri invece sono stati acquistati nei giorni del festival? Certo, sono stati acquistati, la platea è stata molto coinvolta dopo le presentazioni ad acquistare il libro, soprattutto ad effettuare il firmacopie. Circa due persone su cinque della platea ha dichiarato di aver acquistato libri al termine della presentazione. Interessanti anche i dati sulla spesa media sostenuta dai non residenti. Quella per l'alloggio ammonta 76 euro circa pro capite, quella per bar e ristoranti è di 59 euro, mentre per lo shopping di 63 euro. Anche per i servizi balneari un turista su cinque ha speso in media 73 euro, dunque un impatto più che positivo sia in termini sociali che economici. Ringrazio veramente Passaggi per questo grande lavoro, cioè capire qual è l'effettiva ricaduta degli eventi, in questo caso del festival Passaggi, nella città di Fano per noi è fondamentale. Uno per continuare a investire, perché altrimenti abbiamo questa sensazione che come amministrazione ma anche gli sponsor privati che intervengono diano delle economie ma non si sa finalizzate a che cosa. Attivare dei percorsi di questo tipo di valutazione degli eventi per noi diventa fondamentale ed è una cosa che dobbiamo fare un po' con tutte le attività, per avere il coraggio di investire di più, sapendo che quelle economie sono ricadute effettive nel comparto turistico, nel comparto commerciale, nella crescita sociale e culturale della città. Questa tra l'altro è una delle tre indagini in cui abbiamo partecipato. La prima, Effetto Festival, è un'indagine nazionale che riguarda i 4-5 eventi più importanti d'Italia e quest'anno ci hanno chiamato a farne parte. Poi c'è il sondaggio sugli hotel, sulle strutture alberghiere che conduce il Consorzio Albergatori di Fano e infine c'è questo sondaggio che ha fatto questa indagine sul territorio, sul campo, intervistando quasi 700 persone, che ha fatto Domenico Alfano insieme ad altri studenti, ma era lui che guidava il gruppo del Master di Valorizzazione Turistica dell'Università di Bologna. Per noi è uno strumento importantissimo perché ci spiega, ci dice qual è il profilo del visitatore medio del Festival. Quindi è importante perché poi quando uno decide il programma, le iniziative, gli orari, eccetera, questi dati sono fondamentali per rendere il più appetibile possibile il Festival. Le date del prossimo anno sono già state decise? Sì, sono 21-25 giugno, quindi si aprirà mercoledì e si chiuderà domenica. Torniamo nella formula più classica dopo i fuochi artificiali della decima edizione, però sarà comunque un'edizione da fuoco artificiale, ve lo garantisco. E quindi rimarrete nella città di Fano? Rimaniamo nella città di Fano dove abbiamo una convenzione fino al 2024 e poi vedremo.